Piedino per bottone. Applicazione di un fiocco. Potete utilizzare questo piedino per applicare un fiocco sul vostro tessuto. Per inserire il piedino far scorrere la barra sulla parte posteriore del supporto del piedino ed abbassarlo per assicurarlo alla macchina. Alcune macchine hanno la funzione QC bottone che permette di abbassare automaticamente le griff trasporto. Potrete comunque utilizzare anche lo zigzag, facendo attenzione ad abbassare manualmente la griff trasporto. Posizionare il centro del fiocco sotto il piedino, scegliere un punto stretto e cucire. Per avere una finitura migliore potrete utilizzare il filo trasparente. Quando avrete fissato il fiocco, alzate l'ago e tagliate il filo. Posizionate poi uno degli anelli del fiocco sotto il piedino e cucite. Una volta terminato alzate l'ago e tagliate il filo. Potete ripetere quest'operazione per applicare a fiocco ciò che preferite.